Va Alex, dimmi qualcosa di Family Fiendi, tirami sul morale, vai, vai L'occhio mi sta s*****o No, no Picchiami, dai, sfogati Ecco, bravo Ok, perché, poveri Perché è blu come me È vero, lo sai che ci stavo pensando anch'io a sta cosa, è normale, è normale Perché siamo collegati È normale, è tipo uno la nemesi dell'altro, vabbè Oggi però non c'è niente da ridere, Anna fatti da parte che sto inquadrando i Lucky Block di oggi E sono i Lucky Block degli SCP, quindi ci saranno cose pericolosissime dentro E dovete essere tutti pronti, attenti, mi raccomando Siamo tutti pronti e attenti Guarda, è dentro veramente, c'è roba brutta Allora, siete pronti? Andiamo a aprire Noi ce ne andiamo nella nostra stanza Sì, squacqueratevi via, noi rimaniamo qui invece, non te ne andare amico mio Allora, scontate una cosa, ma cosa ne dici se iniziamo insieme? Perché tanto poi alla fine andiamo sempre a finire insieme, quindi Allora, andiamo sul tuo Andiamo sul tuo questa volta Va bene, va bene, è abbastanza in ospitale il mio però Perché è in ospitale? Cosa c'è? Scorreggiato dentro, che schifo Oh, se lo dicevo io mi insultavi Eh, ho capito, l'hai fatto te, chi lo deve dire? Lascia te alla prima fetta Grazie mille, provo prima io e vediamo che cosa è uscito Allora, mi è uscito un gambale di un class D Arancione È una cosa semplice, sì sì, è arancione Perché tu sai che cos'è un class D? Questa è un'interrogazione, vai, che cos'è? Sì, ma me l'hai già chiesto nell'altro video Davvero? E allora ridimmelo perché se non lo sai ti piccono 3, 2, 1, non lo sapevi È finito il tempo, è finito il tempo È il personale che viene usato per essere testato Blah, 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 blah Ahia, ho dato una botta al microfono Non lo sapevi? Oh no, Bob Bob Pronto? Pronto? Di già? Abbiamo un problema Anche noi, Bob No, noi abbiamo un problema che si chiama Stasua Davvero? Che si chiama 173, aiuto Sì, ho capito, ma non si spoilerano le cose che escono dentro, Anna, porca miseria Infatti Cioè, ma farai schifo Ho capito Vattene subito via Tu è quel gatto sporco che ti ritrovi di compagno Volevamo farlo vedere, non sappiamo cosa fare L'occhi, ti muti perché così ti segue Bob, capito? Ok, tu spingi la pina di butta Ok, sì, sì, bravo, bravo Vai, vai, vai Ma io non so, ma cosa volete voi due? Ve ne andate? Abbiamo bisogno di assistenza Che facciamo contro sta cosa? Oh, la spingi di sotto Appicconate Lo sai come si uccide, no? Ma porca miseria Va bene, va bene, va bene Ce ne andiamo, ciao Ma voi fanno veramente schifo questi due Ma poi dove è la statua? Non ce n'è nemmeno L'occhi, ci prendono in giro qua, eh Ma tu non la vedi davvero? Ma tu la vedi, perché? È gigantesca in mezzo alla mappa Ma non è quella! È più pericoloso di quella Ce n'è una vera! No, è impossibile Sì, non lo so se è vera Però, insomma Oh, un altro pezzo di armatura di class D Sì, ma io non voglio essere un class D Cioè, sono un Guarda che poi li devi testare tutti tu, eh Gli SCP? Ma, ma Eh, sì Ma lo faccio già Oh, un altro pezzo Ma scusa, ma puoi spaccarli anche tu? Guarda che non è che sono solo per me Cioè, sono anche per Ah! Guarda, guarda cosa succede se li spacco Non va bene questa cosa qui Cosa succede adesso? Eh, allora Ti spie... Tranquillo, guarda No, fermo, non lo guarda Fermo! L'occhi! Scusami, scusami Oh, la miseria, sei un cretino Scappa, scappa 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 Cosa devo fare? Eh, scappa lontano Veloce, veloce Dobbiamo tornare da loro Dobbiamo avvertirli Questa volta dia davvero Anna, Anna Che succede? Che succede? Shaggy, 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 shaggy No, ragazzi Dove, 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 dove Shaggy, problema grande È sul lucky block nostro Sul lucky block nostro Non lo vedo più però Ma perché? Eh, auguri Ma com'è possibile? Com'è possibile? Non va bene, l'occhi Spostati, spostati Non lo so, tu lo senti il rumore? No, però se ci viene addosso di corsa È finita per tutti Ho paura dello shaggy Lo vedo È rimasto fermo Allora, facciamo così Facciamo così Ehm Ancora Un problema Ma basta, cosa c'è adesso? Abbiamo uno shaggy sulla mia isola Allora, ascoltate Dobbiamo Dobbiamo Allora, abbiamo due possibilità O li spingiamo di sotto Oppure li lasciamo lì Però vuol dire che Abbiamo il lucky block Esatto, però Non ci stiamo tutti Allora, due sono già Che non si possono usare Il problema è che il mio è incastrato in un buco E sta seduto lì Aspetta no Anche il mio Aspetta, venite qui Allora Ci servono degli smeraldi Per comprarci un'arma Io ce ne ho 27 Io ho questo Dammi, dammi, dammi No, ma prima il mio Prima il mio Voglio buttare giù Prima il mio Dammi, 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 dammi Grazie Voglio buttare giù Voglio buttare giù Aspetta Non fate Mamma mia Funziona, funziona, funziona Ma brava, brava Io intanto mi compero qualcosa E ciao, grazie Alex Ci sentiamo dopo Ciao Alex, che hai fatto? Mi ha regalato gli smeraldi Ciao Oh, dammi qui Mamma mia che botta Anna va via Ma sei impazzito Oh, oh No Cos'hai preso? È il lanciamissili Mi sa che Anna L'hai buttato giù Anna È buttato giù pure te Ma io non lo so Cioè Alex Non devi dare i soldi al nemico Ma io non pensavo che mi truffava Andate via Andate via Andiamo via Andiamo via, lochi Andiamo via Andiamo via Andiamo via Mamma mia com'è andata male Ok Sì ma Anna sta venendo qui Anna Ma porca miseria È nel mio lucky block A cercare di picchiarmi Ma che vuole oh Ma dobbiamo allearci contro gli SC Adesso l'abbè Alleati contro gli SC Spingi la spingi la spingi la spingi La spingi la spingi Bravissimo Vabbè Va bene così Lasciala stare Lasciala stare Lasciala stare Lasciala stare Va bene va bene va bene Va bene Sai Comunque non va bene Non va bene Tu che hai preso? Io ho preso Il lanciamissili e 31 missili Ok Però Alla potta Beh mi avanzano altri 9 smeraldi Va bene Non è che sia poco E poi l'idea a me Perché io non c'ho ancora Non c'è niente Non mi parlare con questa voce da bimbetto però Per favore Perché ti uccide Tu hai sentito l'urlo che ho fatto prima? Sì Era vero Era vero Quanto si messo le mani davanti agli occhi Sono spaventato Lo so Lo sai che mi ha droppato un'altra cosa degli SCP? Che ti ha droppato? Sì ma è una cosa tristissima questa Allora Mi ha droppato una spada di telekill Però non è la vera spada di telekill ovviamente È fake È una fake spada di telekill È piccola piccola Moscia moscia Vediamo quanto l'anno fa Fai vedere Ah sì certo ovviamente È una schifezza C'è l'armatura delle class D e devi provarlo su di me È certo Ah Loki Non lo so Eh mamma mia Però son vivo Tu no Eh niente C'era una pozione C'era una pozione SCP Non l'ho vista Non l'ho vista L'hai presa tu? Io non ce l'ho Eh no L'hanno fatto esplodere i creeper Eh E mo abbiamo dei problemi Cos'è quello? Anna ha messo la TNT SCP sul nostro coso Cos'è? Loki fa un disastro Fa un disastro Loki non ti sento Eh mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sono morto Porca di quella cutretto L'ho sbanonata E adesso come ne usciamo? Non dovrebbe funzionare così Loki è finita È finita Loki non finisce Loki 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 Io come ne esco Loki Loki non sento nulla Non sento nulla Ma porca miseria Andiamo da Cosa cacchio Cosa cacchio avete fatto? Anna Una TNT SCP È bella Io adesso non sento un cacchio Non sento niente neanche io Cioè come ne usciamo da sta situazione? Vi prego Voli la tua isola Non sento io Cioè è finita È finita Io sto salendo verso l'alto Per evitare di sentire Sto rumore Loki risolvi qualcosa? Eh Provo Loki Dammi un secondo Io sto Anna questa è tutta colpa tua Io sono arrabbiatissimo Che dobbiamo provare Per vedere cos'è? Cioè io l'unica cosa che posso fare È farmi un pilastro altissimo Verso il cielo Da qui non lo sento più Loki cosa facciamo? Arrivo Sto arrivando Ci penso io Io ci ho tirato un missile Magari risolve Non lo so Non ha risolto un cacchio È rimbalzato È rimbalzato Cioè quella è una roba davvero SCP Quella è la bomba Ti sta rimbalzando con l'ottratento Ma è pazzesco La bomba impossibile Da far smettere di esplodere Guarda che Cioè veramente Probabile che c'è un SCP del genere Eeeh E vabbè Come lo risolviamo? Come lo risolviamo? Non lo so Non lo so Tu lo devi sapere L'hai messa tu È colpa tua Ma mica l'ho creata io quella cosa Ma lo sai cosa ha fatto? Secondo me Prima o poi finirà No secondo me no Secondo me E poi questa schifosa Diana Questo l'acchi block Non si può più usare Mica ne ha messo una Ne ha messo tipo 5 di bombe insieme Loki Non ti vedo intervenire in modo Efica Oh Grazie a Dio Loki Sei un grande Puoi provare a fare Undo Magari va a posto Prova un po' Dai sicuramente va a posto Sicuro va a posto Dai vai Vai va a posto E vai Loki Quanto fai schifo Oh vedi A posto Grazie Anna e Alex Potete sciacquarvi dalle scatole Grazie Ok ciao Ok ciao Perché ho dei brutti sentimenti Grazie Loki Sei stato bravo Eh bravo Hai mica un secchio d'acqua Perché io possa cadere Agilmente per caso Ma certamente Davvero Non ce l'hai Aspetta Va bene Faccio da solo Vai No no Va bene Ho resistito alla caduta È buona questa armatura da classe D Oh mamma mia Adesso Le mie orecchie Sei stato bravo Io meno male che sono salito là in alto Così non ho rischiato di sfondarmi le orecchie Adesso se troviamo un'altra volta Quell'armatura lì Cioè quella TNT lì Ricordiamoci che non è cosa Non va utilizzata Va bene Ecco i fatti Ma questi filmini sono degli SCP Non lo so Capitano spesso durante gli SCP Guarda che cosa ho trovato Guarda un po' Allora io so No no Lo so Abbiamo detto di no Però ascoltami Ascoltami Non facciamo nulla eh Non facciamo nulla Noi no In teoria Non abbiamo appena subito un attacco un po' ingiusto da parte di Anna Ti faccio questa Sì Molto ingiusto Molto molto ingiusto Quindi io ti domando anche no amico mio Non sarebbe magari giusto Ricambiare no Pan per focaccia Occhio per occhio Sì però stavolta non l'ho fatto Ah vuoi farglielo Ah così devono risolvere loro Vediamo se trovano una soluzione Non riescono l'occhio Non ce la faranno mai Non riescono Perfetto Non faccio No è troppo cattivo È troppo cattivo Ma tu hai una pozione SCP Me la fai vedere per favore Sì te la voglio dare Quando finivi di parlare Della tua TNT SCP Ti dico questo Allora questa è molto bella E ha un teschio davanti È bruttissima Questa qui è mortale Lo sai Cioè è pericolosa Allora io ne sto lontano No dai devo provarla Class D siamo Vai Ah ho spawnato dei creep Ah pensavo fossi diventato un creep Ok sono abbastanza sfortunato Allora È una pozione cattivella Secondo me ma Scusa ma Molto cattivo Ti faccio una domanda Tu hai notato che i lucky block Diventano da verdi a rossi No? Sì 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 Non è che magari E devo risponderti a sta domanda Eh eh Rispondimi Ma io non ho fatto la domanda ancora Ma non te lo volevo chiedere Lo so che lo sai Ah va bene va bene Ti tiro un missile adesso No 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 Che poi c'hai 30 razzi Eh Quanti ce n'hai 30? C'erano 27 Allora Io ti volevo chiedere Non è che per caso Se noi apriamo il lucky block Quando è verde È migliore E quando il rosso è peggiore Potrebbe essere sta cosa Cioè un po' Possiamo provare? Allora L'ha aperto rosso Rosso Ed è uscito il fulmine Proviamo di nuovo rosso Vediamo se esce un'altra cosa cattiva No è uscito un pantalone E beh ma quelli ci fanno testare gli SCP Quindi sono cattivi È vero sono cattivi Di nuovo rosso Un altro fulmine Ecco Adesso vogliamo provare il verde? No sempre rosso Voglio vedere Vai Questo non è né buono né cattivo Però è una schifezza e basta E allora mi rompono le palle Eh non si dice L'occhi 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 Dai bene là sotto Perché dici le cose brutte È schifoso Io sto squartando le pecore Comunque Non è che sono meglio di te L'ho cheso Gli mettiamo il vestitino arancione Del class D Alle pecore Alle pecorelle Non si può E li facciamo testare a loro Gli SCP Io sto continuando ad aprire Ma io non sto più trovando Gli SCP Ma guarda Ah l'occhi no L'occhi dentro il pozzo C'è Uno shy guy anche per te Ma davvero Smettila di urlare Si Sta arrivando a te Spingilo 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 col bastoncello No 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 Col bastoncello lo spingo io Sono il loro eroi Dov'è Eccolo vado Ma non c'è un modo per batterlo Beh lo puoi spingere nel vuoto No Lo shy guy è immortale Ti informo di questa cosa L'unico modo per ucciderlo È con la spada di telekill Però quella vera Non questa finta Che non serve a niente Esatto E tu stai borbottando Ma pensi di essere Giorgio Scusami oggi Eh no Se volevo Giorgio No no Non è una buona idea Non è una buona idea Ma cosa sono ste esplosioni E senti anche tu Mi sa che hanno fatto il danno Perché è l'unica Cioè No ci sono due weeder Aspetta Andiamo ad aiutare Aiuto aiuto Sì arriviamo Però fate schifo Cioè Aiuto aiuto Ma sono due Non è colpa mia Ci penso io Con i missilassi incredibilassi Però ci vuole un'ora Ricaricare questi Quanto rumore state facendo Ma c'è un altro Io vorrei comprare delle armi Ma è morto il tipo L'ho chi Ah davvero è morto Sì è morto Cosa avete combinato Pazzi pazzi Scriteriati Perché avete aperto Tre weeder avete aperto Ma non è colpa mia Ma io vi uccido Ma guardate che rumore Dopo uno potevate accontentarvi Uccidere No ne avete aperti altri due Che rumore Ho dovuto abbassare Il volume Il volume Però Allora qualcuno di voi Mi deve dare Ma che segniotto È rimorto Alex Non ammazzare il cristiano Perché vende Le cose Questi Sto accendo questi State sfasciando tutto Che disastro Ma questo è Alex Io lo so Quando c'è Alex Non è il weeder Sei tu Ma sei un banunato Sono morto La zappa La zappa Io non posso fare niente Non ho armi Beh vai Affanquiquero allora Che è una buona Che non ce n'è un'altra per me Sto accendo tutto Non posso comprare niente Perché avete rotto tutto quanto Guarda che disastro Guarda che sfasciato Che sfasciato Che sfasciato Poi c'è Loki che borbota Ma io non lo so Ho dei panico Ma non me ne frega Cos'hai detto Ammazza il weeder Come? Con il piccone? Ma Anna lo sta ammazzando Con una zappa Ma cosa pensi di fare? È la zappa dell'eroe Mamma mia che cosa ho comprato Cos'hai comprato? La minigun Ti do Io ho comprato il rocket launcher Invece Voglio comprare anch'io Sta succedendo di tutto Loki Loki ascolta Eh lo so Ti ho regalato Quello che avevo io Prenditelo io Finisco di uccidere Anche quest'altro weeder Che porca la miseria No Muore l'omino Anche Anna Perché non se ne può più Ma Anna è fortissima Non muore mai Guarda Non muore via La mia team comp È mia compagna Ma c'è anche nuggets Aiuto Loki Allora facciamo così Mi ha crivallato Mi ha crivallato Mi ha crivallato Ma porca miseria Guarda adesso sono arrabbiato Stiamo arrivando in quel momento là Dove io mi arrabio Sto distruggendo tutto qui Allora sai cosa ti dico Non me ne frega niente Adesso apro tutti i lati No Alex Mamma mia sto aprendo di tutto e di più Una porcel torre No sono morto Va bene Loki Aiuto aiuto Ritiriamoci nelle nostre stanze Per prepararci all'attacco finale No ce ne dobbiamo dare noi Bravi allora sciacquatevi Eh se ne sono andati Bene Allora Tu non hai l'amiga Non hai quel rocket launcher Però ti informo Si ma un colpo E che ricarica ogni Lo so Fa schifo Fa schifo Fa schifo Hai bisogno di qualcosa di meglio Ti devi comprare Almeno almeno dovresti avere Secondo me le granate Hai visto che ci sono le granate appiccicose Quelle lì sono buone Quelle devi comprare Ci sono le granate appiccicose Si ci sono le granate appiccicose Però aspetta che sto raccogliendo Tutta quella E mi sono le smeraldi allora Eh te li prendo io Allora ce ne ho 13 Uno shagai Uno shagai L'ho uccido No 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 Non me ne frega niente No vabbè 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 Che inizio è trincoato dell'urlo Vabbè Hai spinto Funziona Una statua pure c'è Questa si uccide a picconate Ma porca Ma basta Ma com'è che ci sono tutte queste robe Orribili dentro Loki dove sei Sto arrivando Sono morto Mi hai spinto giù Mi sembra lo shagai Ho fatto bene secondo me È stata una buona cosa da fare Eh sì È l'unico che ti può aiutare Ma eh Bell'aiuto mi puoi dare Fai schifo Scusami C'è un rocket launcher Eh appunto Fa schifo Vieni ti compro qualcosa di buono Allora Fai Vendo Io trovo la spaditele Tutto quanto Quella fa schifo Loki Smettila di Stai sempre borbottando Ma porca miseria Ma quante volte te lo devo dire Non borbottare più Loki Va bene Ma come va bene Ma smettila Ma guardate Ma se Bobo Giorgio oggi È incredibile Borbotto No adesso non borbotti più Grazie Però magari potrei evitare di farlo Prima della fine del video Che dici Tieni Ti regalo 16 di queste granate Sono buone Ma sei sicuro che sono appiccicose No guarda non lo so C'è scritto che sono stick Quindi Ah no non sono appiccicose Sono Granate a bastoncino Però Ma questo qui che compra Lo lasciamo comprare Ma ammazziamo pure a lui Ma ammazziamo Ammazziamolo con le granate stick Che qua c'è arrivato Ah c'è lui alla minigun però Alla minigun E io il rocket launcher Non fa nulla Sta ricaricando Sta ricaricando Aspetta L'ho crivello L'ho crivello L'ho crivellato L'ho crivellato Arriva Anna Stai attento Stai attento Eccola lì Non posso stare attento Anche lei c'ha il lanciarazzi Stiamo distruggendo tutto Tutto Non c'è più un'isola Non rimane più l'isola È una cosa pazzesca Non è ancora morta No sono morto io Sono morto io Sono morto io Loki Ok l'ho uccisa Dobbiamo potenziarci ancora Ci sono altre Allora le granate Aia ma chi è È il gatto Le granate sono buone Perché sì Perché sono buone Ma bisogna averne tante Io ho trovato anche Delle lucky potion Le uso che queste possono dare Talvolta Altri smeraldi Immagino Ne abbiamo tanti Adesso io ne ho Quanti smeraldi hai Io ne ho 48 più 28 Più anche un po' di Di ferro Però tu hai appena trovato un pozzo Come sarebbe zero Infatti è pieno di roba qua Guarda È pieno pieno Ma se distruggiamo i blocchi E prendiamo i lingotti Li possiamo vendere Alla statua Ma è troppo Ci vuole troppo tempo Devi solo raccogliere gli smeraldi Adesso io ne ho 48 più 38 Però sto morendo E ho ancora Non ce ne ho neanche uno Bravo Sei sempre il migliore Io sono convinto Di avere l'alleato migliore Bobo guarda Sono sicuro di avere Un alleato utile Grazie No peccato che sto scherzando In realtà penso che tu Come alleato Chi è che te l'ha tolta la TNT? Chi te l'ha tolta la TNT? Una cosa buona hai fatto In tutto il video però È una Cioè io non lo so E oggi sono anche Anna Vabbè quello È abbastanza semplice Andiamo un attimo sopra Perché ho paura Che ci vogliamo attaccare E io devo commerciare Però io ho preso Tutti gli smeraldi che ti servono Va bene fermo eh Ciao Ciao Vogliamo commerciare Avere un attimo Quindi non attaccate Commerciate ok Io ho andato a aprire la caccia Sono caduto da tre blocchi E sono morto Porca miseria Eh ma sei senza armatura Davvero? Ah te l'hanno distrutta mi sa eh Ah ecco perché stavo succando In questo modo Infatti mi domandavo eh Che malabini Gli hanno imbattivi Ho evoccato un altro witter Per errore Non lo sapevo Non lo è Niente Disastro di nuovo Porca miseria Che cacchio Uccidetelo E lì al centro E non ce la faccio quel lanciarazzi Fa troppo schifo Eh certo fa schifo quel lanciarazzi Non so perché ancora ce l'hai No mori Fatto morto Ok perfetto Io sono morto due volte in un buco Bravo Adesso dobbiamo commerciare però Ok quindi se mi date un attimo Io vorrei comprare una cosa E poi dopo ci sarà Lo show off finale Cioè il momento Cos'hai comprato Bravissimo Nascondi le armi Bravo Bravo Non far vedere Oh ma che state dicendo Niente Guardate che abbiamo un altro baio di witter Ma cosa vuoi evocare Ti evochiamo noi adesso Aspetta eh Non fare nulla Basta witter per favore Perché sono fastidiosissimi Ti esplodo una tntscp No grazie Non esplodere niente Perché quella là Guarda ci mancherebbe altro Una cosa così fastidiosa Io non l'avevo vista mai In tutta la mia vita No è tremenda Siete pronti Questo è lo scontrozzo finale Ok Sei pronto allo scontro finale Sì sì pronta Pronta Aspetta no Aspetta non sono pronta Aspetta no Aspettate non sono pronto neanche io Dov'è la mia minigun L'armatura ti manca Ma io avevo mollato per terra La mia minigun Sono un cretino Sì l'hai buttata per terra Infatti ho detto C'ho dei problemi Non lo so Loki Alex Dimmi Ma tu non sei Alex Eh non lo so Sono confuso Non mi Ehi c'è un compagno Che non collabora Smettila Loki Ti sto trovando l'armatura Se no che compagno c'ho Hai trovato uno sciega Te l'ho presa a farlo C'è uno sciega è dietro Qua niente non lo guardare Andiamo andiamo Se ne vanno loro Andiamo Questo è lo show off Dobbiamo pestarci no Tieni veloce Tieni veloce Ok Loki veloce Guarda ci ammazzano Conta fino a tre Uno Due Andiamo 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 Show off Show off No 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 Mamma mia mamma mia Anche qui prendiamo Loki stiamo prendendo un po' la banana Secondo me Loki Spara No non mi piace la banana Non mi piace la banana Spara spara E sto sparando Che rumore Ho quasi ucciso Mi ha ucciso Io lancio le granate Hai ucciso il gatto Io ho ucciso Alex Questa è la nostra partita Ho tirato un crumballu Mi ammazzo Non si capisce nulla Vai Anna vai Ananas Anna mi sta sparando Anna mi sta sparando Non ce la farei mai Non ce la farei mai Ho bevuto la pozione dell'eroe Non è vero Anna è senza armatura Loki Anna è senza armatura Eh ma io sono morto Non posso più combattere Anche io sono morto Hanno vinto loro Porca mia No non ci credo Dai Anna Quanti cuori avevi Anna Eh un botto Non è vero Non è vero Ma non è vero Ti ho sparato me No è perché aveva la pozione dell'eroe Con la pozione dell'eroe Diveni praticamente immortale Fermi Non si può sparare più Allora Ah che triste Questa volta avete infierito però Perché lui era lì innocente E voi gli avete sparato Mi dovevo menticare Per tutte le volte Che avete infierito voi Non si fa assolutamente Poi lo vedi Già è tutto Poverino OI 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 Come come Che succede Metti le mani a posto Alex ho detto Alex Lascia stare la Io ho chiesto disfinito Alex devi andare a fan